Senti consiglieri comunali, per me sono presente, richiedo che vengano inseriti nel prossimo consiglio comunale e se mette un giorno. Per amorestando il diritto dei cittadini di rientrare nelle proprie abitazioni nel più breve tempo possibile, si ritiene necessario studiare la possibilità della riapertura di porta a barete attraverso un confronto con il Ministero Bacchi e previa condivisione con i cittadini residenti negli edifici prossimi. Lo studio, quindi ora richiamo su come deve essere fatto lo studio, potrei considerare l'impatto del terapieno ottocentesco di Via Roma e del ponte su Via Vicentini prevedendo la riduzione dell'impatto stesso. Lo studio dovrà garantire la funzione pubblica della fortificazione arterurale dell'ex porta a barete mediante e il resto resta tutto uguale. E il resto resta tutto uguale. Si può votare? Ah, grazie. No, ma chiudiamo dai? No! È anche io, non è vero quando hai vedere. No, perché ciremo dall'acqua, c'è lui ? Grazie.